E sistemiamo l'ago selettore, dunque, ecco qua. Ma ho da lavorare, ho da pensare all'avvenire, e non posso stare sempre con te, con te. Ma, ragazza mia, c'hai le tiglie in testa, nel tuo cervello che cosa c'è? Perché non cerchi di ragionare, e di non pensare, soltanto a te. Ma tu vuoi l'amor, e di non pensare, per merità. Forse il tuo amore non finirà mai. Ma finirà, se vai so finir, se vai so finir. Ma finirà, oh yeah! Ma tu vuoi l'amor. E di non pensare, per merità. E di non pensare, se vai so finir. E come avete visto, con la mia bustola filo diretto, anzi ago diretto, con tutto il mondo, che siamo collegati con i monti di cortina. Ora dove vogliamo andare?